Gabbiamo, arriva il lupo! Gabbiamo, lento! Vista! Aiuto! Aiuto! Mi diamo un po', qui c'è da scegliere chi potrei mangiare, eh? Gabbichi giusto a proposito, gallinella mia, perché ha una gran fame! Che spuntino delizioso! Mi dà, mi dà! L'ho finita! Devo ammettere che la mia casetta mi è venuta proprio bene! Sarei curioso di vedere come sono venute le case dei miei frattacchi! Guarda, guarda che bel maialino grosso e appetitoso! Comunque sono pronta a scommettere che la mia casa sarà venuta più bella della loro! E' quella! Ehi, ciao, simpatico porcellino, mi lasceresti entrare nella tua nuova bella casa! Ma che vuoi essere? Non essere scortese, bel porcellino, avanti, aprivi, fammi entrare nella tua nuova ed accoglietta e casetta! Dai, io non ti faccio entrare perché, perché tu mi vuoi soltanto mangiare! No, mi apri subito con le buone, ora spazzolo via con un soffio! Ti avviso che tolterò fino a... Uno, due, tre, tre! L'ho finita finalmente, l'ho finita! Non mi direi che questo mondo proprio prevede, sono sicuro che la mia casa è più bella di due dei miei fratellini! Ma che piacevole sono appresa, a quanto pare oggi è proprio il mio giorno fortunato! Ehi porcellino, so che sei lì, fammi entrare nella tua nuova casetta! Chi è? Chi mi chiama? Ah! Oh no, io un pochettino e adesso che faccio? Avanti, porcellino, vado a entrare nella tua casetta, non vorrai negarmi un po' di ospitalità? Sì, 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 sì! Non ti penso nemmeno lo so, ti vuoi entrare anche per mangiarmi! Se non vieni subito ad aprirmi la porta, soffierò via anche la tua casa! Ti avviso che tolterò solo fino a tre! Uno, due, tre... Sì, sì, sì. E come dice il proverbio, non c'è due senza tre. Chi è? Scusa, porcellino, sono un piantante. Mi parecchi entrare nella tua casetta. Un piantante? Se ne ho controllare. A quello, eh? Mi do di capito. Insomma, porcellino, che cosa aspetti ad aprire la porta? Mi parecchi entrare nella tua casetta. Oh, e ora ti faccio entrare, soppellissimo, se vuoi mangiarti con la credito. Peggio per te, piccolo sciocco. Mi preferisco chiaro via la tua casa esattamente come ho fatto con le altre due. Preparati, uno, due, tre. Sto nello, la casa è ancora in piedi. Ne proverò un'altra volta. Uno, due, tre. Questa volta non resisterà. Devo farcela. Non so cosa mi sia successo, non riesco a soffiarla via. Eh, viva, è terribile, è un po' cattivo non aver riuscito a soffiare via la mia con la casetta di mattoni. Costruire una casa così robusta è stata proprio una bella idea. Intimazione, ma non ti conviene cantare Vittoria perché io non mi arrendo così facilmente. Che l'idea. Porcellino, sai che io conosco un grande campo in cui crescono delle rapi a dir poco deliziosi. Sai davvero dove si trova? Te lo assicuro, è solo così buone che mi viene la colina in bocca soltanto a pensarci. A te piacciono le rapi? Qualcato è molto lontano da qui. Ma niente affatto, è vicino al terreno del signor Smith, proprio al di là del fiume. Io volevo andarci domani mattina presto e se vuoi passo a prenderti. Raccoglieremo un bel po' di rapi per la cena di domani sera, che ne dici? Ma è una bella idea, ti aspetto che ora passi a prendermi. Vediamo un po', ti va bene per ore sei? Perfetto, ti aspetto per le sei, ma cerca di essere puntuale, mi raccomando. Lo sarò, sta tranquillo. Che paureo, non si immagina neanche lontanamente che la mia cena di domani sarà proprio lui. Stranamente, la mattina seguente, al sorgere del sole... Il porcellino si alzò ora prima che il lupo passasse a chiamarlo e tu uscì di casa. Il porcellino si alzò ora prima che il lupo passasse a chiamarlo e tu uscì di casa. Il porcellino si trasferisce direttamente il piastro. Il porcellino si trasferisce direttamente il piastro. Il porcellino si trasferisce al piastro. Oh, amico Dio, sapevo che sareste venuto qui corrido di me. Oh, amico Dio, sapevo che non ero in casa quando si è chiamato, il mio popolo è solo a livello di questo asco. Oh, sono felice, è proprio felice, no? Una cosa mi fa molto piacere. Oh, non è felice, direi. Oh, non avevo mai mangiato niente del testo. Ma allora sono felice, è tua. Sì, sono felice, non mi andrebbe più a peccate. Certo che mi andrebbe, perché non mi lanci un'altra? Eh, però si sono felice. Lo prendo, lo prendo. E io toglielo a tutto, ma no? La ti ha giocato un risotto. Oh, porcellino, mi ha giocato anche questa volta. Ma il lupo non si lascia, non so. E pronto, tornare da casa. Oh, ma Cilinia, ma perché non mi la si fa? Però che sono venuta ad avvisarti che oggi poveriggio c'è il mercato sulla collina, porcellino. Non ti andrebbe di venire con me? Oh, non lo so, allora non lo so. Ti andrebbe bene verso le tue? No, 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 no. Ovviamente, oggi è un poveriggio. No, no, no. No, 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 no. E io pure mi servo da solo. Qua è uno. Ehi, Zervo, cosa stai facendo, ragazzino? Tranquilla, signora, da voi le fanno tutti. Con il porcellino è pertinente, mi vorrei di farmi impiattare, ma oggi finalmente me lo fatterò. Ma cosa succede? No, 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 no. Ehi, guardate come è tanto! Ehi, guardate come è tanto! Ehi, guardate così! Ehi, guardate così! Ehi, i pesi sono così! Ehi, guardate questo! Ehi, andai un'altra! Non hai tocca farmi! Fate qualcosa! Giustatamente! Ci sono! Mi siete presi già tutti! E io per finire mi farò tutte, tutte e quattro! E la magherina! Mi dio una bella spinta, per favore! E perchè? E va bene! Uno, due, tre, via! Anche ora un altro! Dove sono? Danna tu porcellina, ma questa volta non riuscirà a sfuggirmi Danna tu porcellina, ma questa volta non riuscirà a sfuggirmi Danna tu porcellina, ma questa volta non riuscirà a sfuggirmi